A più di un mese dalla riapertura del Parlamento i lavori delle commissioni faticano a riprendere, anzi per la verità sono ancora quasi del tutto fermi. In compenso martedì 15 alle ore 12 il ministro Fioramonti parlerà davanti alle commissioni cultura riunite di Camera e Senato, 23 senatori e 43 deputati, per illustrare le linee programmatiche alle quali intende ispirare la propria azione di governo della scuola. E così forse avremo finalmente qualche risposta sulle molte domande che in tanti si stanno facendo. Per esempio, che fine faranno le prove in valsi? L'alternanza scuola-lavoro verrà cancellata del tutto? Verrà ulteriormente rivisto il decreto sull'inclusione? Ma di temi in sospeso ce ne sono anche molti altri, a partire dall'esame di Stato fino a quello della carta del docente. Ovviamente ci sono anche questioni molto più complesse che richiedono scelte dell'intero governo, come la riduzione del numero di alunni per classe e la diffusione del tempo pieno al Sud. Questioni sulle quali è molto probabile che Fioramonti rimandi tutto all'ormai imminente legge di bilancio per il 2020. L'audizione del ministro segna comunque l'effettiva ripresa dei lavori delle commissioni che da quando si è riaperto il Parlamento un mese fa hanno fatto davvero poco o nulla. E così alla Camera è fermo da tempo il disegno di legge azzolina sulla cancellazione delle classi pollaio e come abbiamo detto proprio su questo è possibile però che una soluzione ci sia proprio dentro la legge di bilancio. Ancora alla Camera dovrebbero prendere avvio l'esame del disegno di legge sulla educazione motoria e sportiva alla primaria, educazione motoria affidata a insegnanti specializzati e quello sulla abrogazione della chiamata diretta. Al Senato è invece in sospeso un disegno di legge della senatrice pentastellata Bianca Granato finalizzato a ridurre il contenzioso, trasformandolo in una procedura di carattere amministrativo da trattare a livello di ufficio scolastico regionale. Ma bisogna anche considerare che proprio da questa settimana si apre la sessione di bilancio e quindi le commissioni saranno impegnate ad esaminare la legge finanziaria per il 2020. Senza contare ovviamente che non è detto che la nuova maggioranza sia ancora interessata a mandare avanti i disegni di legge che sono in sospeso. Su questo tema ovviamente noi continueremo a tenervi informati sia su questo canale ma anche nel nostro sito e nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it Quindi continuate a seguirci, a leggerci ma soprattutto a scriverci, a mandarci i vostri commenti e le vostre osservazioni.